Musica Ancora un saluto dalla nostra redazione, bentrovati al consueto appuntamento con il TG10, l'apertura del notiziario oggi è dedicata al Santo Natale, oggi nel giorno della vigilia il Vescovo della Diocesi di Piazza Armerina formula alla città di Gela gli auguri. Credo che in questa occasione vale quello che dovrebbe essere uno stile di vita per tutti, non solo per i credenti, il coraggio di saper condividere, in questo momento al di là della possibilità di trovare una soluzione al gravissimo problema della disoccupazione e su questo ci stiamo lavorando, perlomeno davvero stiamo cercando di sollecitare più che possibile i vari componenti che hanno anche una diretta o indiretta responsabilità. Penso che quello che tutti possiamo fare è di saper condividere qualcosa del nostro perché tutti possiamo nella condivisione stare un po' meglio. Vorrei che questo messaggio arrivasse a quelli che vivono una certa sicurezza nella loro vita, certo ai poveri, chiaramente alle famiglie povere, che cosa potrei dire? Invece a quegli altri dico cercate di solidarizzare un po' di più e questo sicuramente potrà aiutare anche loro. Ma la soluzione per queste famiglie bisognose non è il pagamento della bolletta o il pacchetto che diamo in questo periodo, anche se questo sicuramente è un refrigerio. Credo che la soluzione sia in una duplice direzione, da una parte che effettivamente, mi riferisco ai credenti, sappiano veramente condividere il loro affetto. Cosa vuol dire? Perché non si potrebbe invitare una famiglia povera alla propria mensa? Questa è una domanda che a mio parere vorrei lasciare sospesa. E poi nell'altra direzione, quindi una dimostrazione di affetto. Poi nell'altro, certo, nella misura in cui il Signore fa capire che questo è il cammino, quello della solidarietà, deve avere il coraggio di saper dimezzare le proprie risorse. Io so che si vive, almeno in alcune frange della società, con risorse davvero molto, diciamo, ispessite, come dire, troppo alte. Questo a mio parere non è un modo per poter tentare una soluzione definitiva. Cioè, finché, voglio dire, adesso voglio essere più esplicito, finché c'è qualcuno nella storia dell'umanità che riesce a prendere più di 4, 5, 6 mila euro al mese in su, evidentemente è chiaro che purtroppo ci saranno sempre persone che evidentemente vivranno nella povertà. E' così. Questa è una logica delle cose, ma una logica mondana, una logica, a mio parere, che appartiene al daimonon, cioè a quella forza demoniaca che è fondamentalmente legata all'egoismo di noi tutti. Il primo cittadino di Gela, Domenico Messinese, a poche ore dalla celebrazione del Natale, augura rinascita e speranza per ogni settore e categoria della città. Sentiamo. Sindaco, quali auguri si sente di formulare per questo Natale 2015 alla cittadinanza? Dando un felicissimo Natale in famiglia, di serenità e per tutti quanti un buon fine anno, ma soprattutto che l'anno nuovo porti delle novità per il futuro. che finalmente incominciamo a intravedere quella luce che ci consenta di poter sperare in un futuro migliore. Ci lasciamo dietro un 2015 che forse è tra i periodi più bui della storia di Gela, ma Gela come al solito è sempre riuscita a trovare il meglio nei suoi figli proprio nei momenti più bui. Quindi a tutti quanti un buon Natale, un felice anno nuovo, ma soprattutto un radioso 2016. Sindaco, la nascita di Gesù ha una carica evocativa molto forte, rappresenta anche il rinnovamento. Se lei potesse rinnovare radicalmente un settore di questa città, su che cosa opererebbe? Non esiste un settore, non voglio fare lo stesso errore che è stato fatto 50 anni fa, Gela ha tantissime potenzialità, dall'agricoltura al turismo, al mare, dove ha sempre avuto le sue più grandi ricchezze. Quindi non esiste una sola ricetta, ma come i buoni piatti è formata da tante parti, che messe insieme sicuramente potranno dare quello che servirà alla nostra città. Si terrà il prossimo 29 dicembre il Consiglio RSU delle società Eni presenti nel territorio di Gela al fine di intraprendere in sinergia con la struttura sindacale iniziative finalizzate a far sì che la società continui i percorsi di cambiamento del sito gelese con una condivisione del progetto tra i soggetti firmatari del protocollo d'intesa siglato il 6 novembre del 2014 al Ministero dello Sviluppo Economico e quanto stabilito dalle segreterie di Filctem, CGL, Femca, CISL, Wiltec, Wil venute a conoscenza dell'iniziativa aziendale di procedere in maniera unilaterale all'attuazione del nuovo assetto organizzativo gestionale della struttura del processo di riconversione della raffineria di Gela in Green Raffinery. Le sigle sindacali si dichiarano fortemente contrari a tale atteggiamento in virtù degli incontri sospesi che la stessa azienda ha dichiarato di avere svolto dimostra che il processo di cambiamento pone innumerevoli difficoltà sia in termini di operatività che in termini di gestione delle risorse. Le segreterie dunque manifestano la propria contrarietà a queste azioni unilaterali e aziendali che rischiano di compromettere le relazioni industriali in atto aprendo scenari di coinvolgimento già di difficile gestione nel territorio. Accordo collaborativo finalizzato al collegamento delle due organizzazioni che operano in provincia di Caltanissetta e quanto raggiunto tra il presidente di Spana, Vincenzo Albicocco, e il presidente di Casa Artigiani del Golfo di Gela, Antonio Rubio. Obiettivo dell'intesa è quello di rafforzare e incrementare la presenza di Casa Artigiani in tutto il territorio nissena attraverso un miglioramento dei servizi a livello associativo. A ratificare l'accordo per Casa Artigiani Sicilia erano presenti i coordinatori regionali Maurizio Pucceri e Sebastiano Molino e il segretario del coordinamento Giuseppe Profita. Si rivolgono a Babbo Natale i rappresentanti e i membri del comitato del porto di Gela che chiedono come regalo un porto degno di una città di mare come quella gelese. Per quest'anno volevamo chiederti se potessi aiutarci a concretizzare un nostro sogno. Si legge in una nota che più che altro è un progetto che abbiamo a cuore da quasi 20 anni. Vorremmo tanto che la nostra città di Gela possa avere un porto degno delle esigenze, delle prospettive che tutti gli operatori portuali e cittadini si meritano. Vorremmo inoltre sensibilizzare le nostre cariche politiche, a partire dal presidente della regione siciliana Rosario Crocetta, gli onorevoli sia regionali che nazionali che rappresentano il nostro territorio, siano illuminati dal buonsenso del fare per il futuro della città. Vorremmo che la prossima stagione estiva 2016 il nostro porto fosse nelle condizioni ottimali alla sua regolare funzionalità. L'auspicio del comitato è quello di poter ospitare nel territorio tutte quelle imbarcazioni da di porto che transitano nel Golfo di Gela, portando così alla città lo sviluppo turistico che merita avendo un patrimonio artistico invidiabile. Dalle richieste fatte da parte nostra nella qualità di rappresentanti del comitato di quartiere Settefarina e l'amministrazione comunale in cui segnalavamo di servizi e interventi da fare nella zona in cui risiedono i cittadini, nella qualità di loro rappresentanti, prendiamo atto che tutte le nostre richieste sono state disattese e che il sindaco Domenico Messinese non ha sentito l'esigenza di incontrare né il presidente, tantomeno il quartiere o un loro rappresentante. Lo scrive in una nota inviata alla stampa il presidente del comitato di quartiere Settefarina, Salvatore Terlati. Ci chiediamo come mai un sindaco, leggiamo ancora, che in campagna elettorale dichiarava nei suoi comizi che le porte della sua stanza all'interno del municipio sarebbero state sempre aperte e pronte a ricevere i cittadini per sentire le loro istanze e l'indomani della sua proclamazione a sindaco di colpo si sono chiuse. Anzi, possiamo affermare che non sono mai state aperte. Il quartiere Settefarina è parte integrante, come tutti gli altri quartieri del centro urbano della città di Gela. Possiamo affermare che il tanto rinnovamento e cambiamento non è mai avvenuto, concludono i rappresentanti del comitato di quartiere Settefarina. Cambiamo argomento. Il bilancio delle attività che riguardano la sanità e l'ospedale Vittorio Emanuele di Gela non soddisfa i componenti del comitato per lo sviluppo dell'area gelese che oggi interviene sulla vicenda. Sentiamo. Il comitato per lo sviluppo dell'area gelese da anni si interessa delle problematiche legate alla sanità del comprensorio gelese. Siete scontenti di questo bilancio 2015? Perché? Ovviamente siamo scontenti. Partiamo da una situazione di svantaggio. Siamo la sesta città per popolazione e la tredicesima per servizi sanitari e ospedaliari in Sicilia. Nonostante la posizione di svantaggio, anche rispetto alla zona nord di questa attuale provincia o libero consorzio, troviamo sempre dei manager che spendono e investono di più nella zona nord, aumentando il gap e investendo sempre poco nella zona sud. Il tutto per Gela si riconduce a spostamento di reparti. Ogni manager, l'unica novità che ci fa trovare all'ospedale di Gela sono lo spostamento di riparti. Si può andare avanti in queste condizioni, in questo modo per una città di 80.000 abitanti? Sicuramente no. Nel contempo a Caltanissetta si aprono 8 nuove sale operatorie. Si individua la biologia molecolare che per legge dovrebbe toccare a Gela perché sia una zona ad alto rischio industriale e quindi le alte specialità per le patologie oncologiche dovrebbero essere fatte nel nostro territorio. Si fa il centro dati per tutta la provincia di Caltanissetta, nuove redi e quant'altro. A Gela si annuncia invece lo spostamento dei reparti. Quali sono le richieste che è continuata ad inoltrare ormai da anni? Prima tra tutte c'è l'Utin, dal 2008 che chiediamo l'Utin a Gela, dal 2009 individuata ufficialmente e dal 2009 puntualmente ci viene detto che tra sei mesi o tra un anno verrà celebrato il bando di gara per attuare l'Utin. Questo direttore attuale ha promesso a tutti gli italiani davanti ai microfoni in Rai e in sesta commissione di sanità che entro dicembre 2015, cioè adesso, doveva consegnare i locali pronti per l'Utin e questo manager ha mancato una sua promessa fatta ai cittadini gelesi e ai siciliani. Non si può andare avanti in questo modo illudendo i gelesi e proiettando gli investimenti per Gela sempre al prossimo anno, ai prossimi sei mesi e rimandandoli di volta in volta perché poi alla fine ci ascoltiamo che quegli investimenti non si faranno e non sono destinati a Gela. Chiederete un incontro? Abbiamo chiesto un incontro dal giugno di quest'anno, ripetutamente, attraverso le raccomandate, attraverso lettere protocollate, attraverso le telefonate, ma il manager Iacono non è disposto al confronto con il nostro comitato. Vuole fare un appello attraverso le nostre telecamere? L'appello che faccio davanti alle vostre telecamere è quello di attenzionare questo ospedale da parte di Regione, da parte di Aspo e per quello che merita. L'unica fortuna che abbiamo adesso in questo territorio è che a breve usciremo da questo libero consorzio di Caltanissetta e poi dovremo dimostrare alla Regione perché brucia tutti questi investimenti nella sanità in un consorzio di appena 169 mila abitanti. Bando di selezione per tre operatori socioassistenziali di sesso femminile. Lo ha indetto il primo circolo didattico di Gela diretto da Adriana Quattrocchi. Le domande devono essere presentate entro le ore 12.30 del 31 dicembre prossimo. Non farà fede il timbro postale per informazioni 0933 90 11 34. Rifiuti di ogni genere sono stati rimossi dalla Tecra nel canale Alessia, nord di Gela, trasformato in una vera e propria discarica. Lo stesso canale era stato ripulito pochi mesi fa. La ditta Tecra su richiesta del dirigente comunale del settore ambiente Emanuele Tuccio ha ultimato ieri l'ennesimo intervento di pulizia straordinaria. Della vicenda si era occupata la nostra trasmissione televisiva Agorà, ideata e condotta in studio da Franco Gallo, che aveva già sollecitato l'intervento. Il sindaco Domenico Messinese adesso ha annunciato il pugno duro contro chi tornerà a scaricare l'immondizia nel canale. Abbiamo avviato una serie di controlli con la Polizia Municipale, ha dichiarato il primo cittadino allo scopo di prevenire o punire nuove forme di disobbedienza civica. Chi verrà scoperto a depositare rifiuti nel canale Alessia, infatti, sarà sanzionato con la dovuta severità. Cofinanziate le indagini diagnostiche dei solai di tre istituti scolastici gelesi che si sono posizionati ai primi tre posti della graduatoria provinciale. I relativi progetti erano stati presentati dal Comune di Gela al Ministero dell'Istruzione. A beneficiare complessivamente di oltre 20 mila euro saranno gli istituti Antonietto Aldisi in via Feace, Enrico Solito in via Berce, Lombardo Radice in via Trapani, tutti costruiti in un periodo precedente al 1970. Accogliamo con soddisfazione questa graduatoria, ha commentato il sindaco di Gela Domenico Messinese, auspicando che alle indagini segua una nuova tranche di sostegni economici per tamponare le criticità che emergeranno. La sicurezza delle nostre scuole è un elemento imprescindibile di civiltà, specie in una terra corrosa da appalti discutibili in tema di procedimenti e materiale. I finanziamenti nazionali, che complessivamente ammontano a 40 milioni di euro, sono stati autorizzati dalla legge 107 del 2015. Grande partecipazione è stata registrata alla Santa Messa celebrata al Palalivatino per gli utenti dell'Aias e i loro familiari. E' stata celebrata su iniziativa dell'Aias di Gela la Santa Messa nei locali del Palalivatino, ufficiata da padre Enzo e allietata dal coro della parrocchia San Rocco. Un intenso momento di pace e condivisione a poche ore dal Natale. Il presidente dell'Aias, Anna Maria Longo. Noi per il 2015 avremo una bellissima proposta da fare, sempre che l'amministrazione ci dia una mano d'aiuto. Abbiamo un progetto molto bello e ambito, si tratta del dopo di noi e della piscina. Ma la cosa più importante è il dopo di noi, che praticamente la casa dove i ragazzi che adesso stanno frequentando l'Aias, un domani che non avranno più genitori, non avranno nessuno, saranno lo stesso accuditi dalle stesse persone con cui hanno condiviso quasi tutta la loro vita. perché abbiamo assistiti qua che sono venuti all'età di due anni, di tre anni. L'Aias ha 40 anni, un altro anno in maggio farà 40 anni l'Aias e speriamo di festeggiarla. Perciò abbiamo ragazzi di 40, anche di 60 anni. Adesso penso che sia venuto il momento di poter dare qualcosa di più. come terapie, come assistenza, penso che è uguali, ma non penso che ce ne fossero. Sto peccando di presunzioni, ma superiori penso che non ce ne siano. Perché tutti i nostri terapisti, tutta l'equip, non voglio dire le figure per ognuno, tutta l'equip è un'equip meravigliosa, che è molto dedita, molto professionale e ama i ragazzi. La cosa che dico sempre io, forse sarò di nuovo ripetitiva, se non c'è amore non si ottiene niente. E penso che all'Aias ci sia tanto di quell'amore che si può pure vedere. Continua ad arricchirsi il cartellone delle manifestazioni natalizie promosso dal comune di Gela. Questa mattina nei pressi del Corso Vittorio Emanuele, vicino alla Chiesa Madre, Babbo Natale, ha accolto gratuitamente a bordo di un calesse i bambini ai quali sono state distribuite caramelle. Domani, inaugurazione del presepe vivente Pace e Misericordia, che partirà da Piazza Umberto alle 18.30, per confluire poi verso Piazza Sant'Agostino. L'evento si ripeterà anche il 26, il 27 dicembre e il 6 gennaio prossimi, dalle 19 alle 24. L'associazione SMAF Sport, Musica, Arte e Folclore, presieduta da Gaetano Davide Arizzi, promuove il presepe vivente che sarà allestita all'interno di un circuito di antichi cortili del quartiere Canalazzo. Appuntamento nei giorni di domani, il 26 e il 27 dicembre e anche il 6 gennaio. L'evento, che porta a riscoprire una tradizione secolare come il presepe e valorizzazione allo stesso modo, luoghi sconosciuti del centro storico, ma con loro antico fascino. Il presepe, oltre a rappresentare le classiche scene della natività, andrà a ricostruire ambienti e spazi di lavoro che richiamano la tradizione storica del territorio. All'ingresso del presepe via Casale, angolo Piazza Sant'Agostino, al visitatore verrà chiesto un contributo simbolico di 3 euro che in parte verrà devoluto in beneficenza alla piccola casa della Divina Misericordia, con il quale avrà diritto alla consumazione tra una variegata scelta di prodotti tipici del nostro territorio. Gli orari di apertura al pubblico saranno dalle 19 alle 24. Ci fermiamo, c'è la pubblicità, torniamo tra poco, restate con noi. Bentornati in studio per la seconda parte del nostro telegiornale Pacchi Dono per le famiglie più indigenti di Gela e un'iniziativa promossa da Noi con Salvini di Gela. Vediamo. Armati di buona volontà e numerosi pacchi dono, i componenti di Noi con Salvini hanno dedicato un po' del loro tempo per le fasce menambienti di Gela. A poche ore dal Natale molte famiglie hanno ricevuto a casa la spesa natalizia. Un gesto forte e simbolico come spiega il rappresentante gelese del partito fondato da Matteo Salvini. Noi con questa azione non vogliamo risolvere i problemi di una città che ha lo sbango. È un piccolo gesto di aiuto in prossimità alle feste e natalizie. Ovviamente questo è un gesto che noi vorremmo ripetere nei mesi a seguire. volendo fare una giornata della solidarietà una volta al mese. Per queste famiglie comunque che vivono in uno stato veramente disastroso e penoso. Ovviamente non si mangia solo il giorno di Natale. Sono famiglie che hanno bisogno tutti i giorni di dare qualcosa ai propri figli. Quindi è un gesto che noi vogliamo ripetere nei giorni e nei mesi a seguire. Allora speriamo che altre associazioni possano comunque emulare questo nostro gesto. Anche altri partiti politici, movimenti, emulare questo nostro gesto. Anche loro proporsi per la cittadinanza. E non solo ai fini politici. Ma solo al fine di portare solidarietà e conforto a questa gente. E' stato allestito nella piazza San Francesco. Il presepe è realizzato dalla parrocchia San Francesco d'Assisi con la collaborazione dei giovani del Movimento Giovanile e dal gruppo archeologi d'Italia Triskelion. Il presepe, che è composto da elementi ad altezza uomo di matrice napoletana, potrà essere visitato tutti i giorni fino al 6 gennaio prossimo. Continuano le manifestazioni inserite nel cartellone natalizio promosso dal comune di Gela fino al 6 gennaio nei locali di Palazzo Ducale, mostra di presepi Vita di Gesù di Francesco Bonvissuto. Fino al 10 gennaio, pattinaggio su ghiaccio, eventi, mostra di presepi, albero della vita nel piazzale della chiesa di San Rocco e a Cantina Sociale. Sempre fino al 6 gennaio nel Palazzo Regina Margherita, presepi artistici. Seconda mostra dei presepi. Il presepi presepi in comune realizzato dalle scuole locali è promossa dall'associazione turistica Proloco Gela. Potrà essere visitata a Palazzo di Città fino al 6 gennaio. Previsti intrattenimento e degustazioni. L'ingresso è libero dalle 10 alle 12.30 e dalle 17 alle 20.30. La cerimonia di chiusura dell'evento è prevista per mercoledì 6 gennaio alle ore 17.30. Saranno aperte altre due porte sante nella diocesi di Piazza Armerina in occasione del Giubileo della Misericordia. Lo ha annunciato il Vescovo Monsignor Rosario Gisana a Gela il 6 gennaio presso la Piccola Casa della Misericordia e a Enna presso il Centro d'Accoglienza Santa Lucia. Inoltre si potranno ottenere le indulgenze giubilari anche in occasione dell'apertura in ogni vicariato della Porta della Carità, nelle cappelle delle carceri e degli ospedali presenti in diocesi e nei luoghi dove si terranno le catechesi sulle opere di misericordia corporali e spirituali. Continuano gli appuntamenti col grande Giazza al Teatro Comunale Eschilo di Gela venerdì 8 gennaio Francesco Buzzurro e venerdì 29 gennaio Fabio Concato. L'inizio degli eventi è previsto per le ore 21, per informazioni bisognerà rivolgersi al botteghino dalle 17 alle 20, per informazioni 0933 911 892 oppure 345 5880 580. Stagione teatrale di Cabaret 2015-2016 al Teatro Eschilo di Gela, protagonisti degli eventi saranno Sergio Vespertino e Ernesto Maria Ponte, lasciate libero lo scarrozzo e Giuseppe Castiglia. Il botteghino rimarrà aperto il venerdì e il sabato dalle 18.30 alle 20.30. Prossimo spettacolo il 13 gennaio con Sergio Vespertino. La Casa del Volontariato ospiterà per la prima volta uno spettacolo teatrale per bambini e lo farà in collaborazione con professionisti del teatro per l'infanzia. Ansel Gretel, il segreto della strega, sarà rappresentato lunedì 28 dicembre prossimo alle ore 17.30 presso la Casa del Volontariato di Gela. L'obiettivo è di offrire occasioni educative di alto livello per i bambini e le loro famiglie. Il progetto teatrale è di nave Argo. Lo spettacolo, realizzato utilizzando le tecniche del teatro d'attore unite ad un originale uso delle musiche e di alcuni elementi del teatro di figura, propone una divertente riflessione sulle dinamiche relazionali tra fratelli e il rapporto con le persone anziane. In scene Emiliano Longo e Ridiana Petrone, anche autrice dei testi e regista dello spettacolo. Le musiche originali sono di Giuseppe Nicolosi e le scene di Tiziana Rapisarda. È stata rinviata domenica 27 dicembre prossima alle 9 la Camminata per la Pace che doveva svolgersi in Piazza della Pace al lungomareste di Macchitella domenica scorsa. L'iniziativa che porta la firma del Comitato Camminatori Gelesi ha l'obiettivo di ricordare i concittadini gelesi deceduti a causa di patologie tumorali. Tutti i devoti che si accingono a preparare la tradizionale cena di San Giuseppe del 19 marzo prossimo dovranno recarsi presso la chiesa di Sant'Agostino per potersi registrare. Lo comunicano i padri agostiniani. Infine c'è l'informazione cinematografica. Al Cineteatra Antidoto è proiettato il film Babbo Natale non viene da nord con gli orari che sto per dirvi 17.30, 19.30 e 21.30. Lunedì 28 dicembre alle 21 la Compagnia Teatrale Antidoto porterà in scena una briscola commedia in tre atti di Tiziana Guarneri. La regia è affidata a Giancarlo Bella. Bene, era questa l'ultima notizia del nostro telegiornale. Grazie per averci seguito fin qui. Vi ricordiamo che notizie, approfondimenti e servizi sono disponibili sul nostro portale all'indirizzo web www.tg10.it Vi ricordiamo inoltre che il nostro televideo è sempre aggiornato. Grazie ancora e un felice Natale a tutti. Grazie a tutti.